Buongiorno e ben trovati all'edizione settimanale del Tg Economia, il servizio di informazione economica sull'Ungheria a cura di ITL Group. Prima di cominciare vi ricordo il nostro canale youtube www.youtube.com slash economiahu al quale potete iscrivervi per ricevere tutti i nostri nuovi programmi. Vi ricordo anche che potete iscrivervi dal nostro sito alla newsletter, basta semplicemente cliccare su www.economia.hu nell'apposito link dedicato alla newsletter. Il servizio è completamente gratuito. Questa settimana è stata dura in tutta Europa e anche nel mondo e di fronte all'inasprirsi della crisi economica mondiale il primo ministro ungherese comunica la necessità di un accordo con i dirigenti industriali e di sindacati per evitare licenziamenti e gestire la crisi con misure efficaci. Il ministro dell'agricoltura Graf ha annunciato che il supporto a favore dell'agricoltura sarà ridotto ma resterà comunque più alto rispetto all'anno scorso, questo in parte grazie ai fondi previsti dall'Unione Europea. L'agricoltura infatti riceverà 258 miliardi di fiorini, 5 in più dello scorso anno. Il Parlamento europeo ha approvato la proposta del commissario dell'Unione Europea, Kovac Laszlo, per prorogare la riduzione dell'IVA per alcuni servizi ad alta intensità di manodopera ed ampliare il loro campo di applicazione. La scadenza prevista per la riduzione è alla fine del 2010 e la proposta è stata approvata con ampia maggioranza. Kovac ha spiegato che la proposta è in linea con il programma dell'Unione Europea per preservare i posti di lavoro, sostenere le piccole e medie imprese ed aiutare l'industria delle costruzioni. A proposito di costruzioni, il settore delle costruzioni ha registrato un'ottima produttività in Ungheria nel 2008. Dall'altro lato, la crisi dei mutui ha provocato un aumento dello squilibrio fra domanda ed offerta nel settore immobiliare. Secondo il sondaggio dell'Istituto di ricerca GKI, infatti, il mercato subirà un rallentamento nei prossimi 12 mesi. L'andamento resterà tuttavia invariato nella zona centrale di Pest e nell'Ungheria occidentale. A proposito di Ungheria occidentale, è in costruzione il circuito Balaton Ring su cui dovrebbe essere disputata la tappa ungherese del MotoGP 2009. Da quest'anno, infatti, l'Ungheria ospiterà una tappa del Moto Mondiale, in particolare quella del 20 settembre. I lavori tuttavia potrebbero non essere finiti per la data del 20 settembre a causa di un ritardo nella costruzione da parte della società spagnola incaricata della costruzione. Il progetto ha un costo di circa 80 milioni di euro. Potrebbe essere raddoppiata la centrale nucleare ungherese di POAX che copre il 40% del fabbisogno elettrico del paese. I permessi per l'ampliamento sono già stati ottenuti e sono stati portati a termine gli studi necessari, manca però l'approvazione del Parlamento. Non mancano invece le polemiche. È stata inaugurata lo scorso mercoledì la promozione dei prodotti molisani all'interno degli ipermercati CORA. Le settimane di promozione sono un'iniziativa dell'Istituto di Commercio Estero e hanno lo scopo di favorire l'incontro fra i prodotti agroalimentari del Molise e i fornitori ungheresi. L'Ungheria sarà in Italia e in particolare a Milano nel mese di marzo in occasione del Salone Internazionale della Pelliceria e della Pelle. La fiera si terrà dal 4 all'8 marzo e rappresenta il punto di riferimento per il mercato internazionale del settore. L'Ungheria sarà presente con 5 aziende e i loro prodotti. La settimana è stata molto dura per le monete dell'Europa orientale, in particolare per lo sloti polacco, ma anche per il fiorino che ha chiuso la settimana a 304,95 contro l'euro dopo aver anche toccato quota 307. Il primo ministro ungherese ha parlato di misure straordinarie per difendere il fiorino. Il governo, secondo il primo ministro, deve collaborare con la banca centrale per sostenere la valuta locale. Settimana molto dura anche a livello finanziario, addirittura si parla di settimana da dimenticare per i listini mondiali e in particolare per le borse europee. La borsa di Budapest ha chiuso a 10.380 punti, il ribasso del 2,53% dopo essere scesa sotto i 10.000 punti nel pomeriggio di venerdì per la prima volta dal 2004. Tra i titoli principali OTP è il leggero ribasso, meno 0,55%, in forte calo Richter che perde il meno 5,96% e Moll il ribasso del meno 1,81%. Il gruppo petrolchimico Moll ha annunciato un taglio al personale che riguarderà 220 dipendenti dell'azienda. Il ridimensionamento fa parte di un piano previsto per migliorare l'efficienza dell'azienda. Per il momento è tutto, vi auguro una buona settimana e una buona giornata. Vi rimando alla prossima edizione del Tg Economia e ai nostri prossimi programmi ricordandovi il nostro canale youtube www.youtube.com e il nostro servizio gratuito di newsletter. Una buona giornata dalla redazione di economia.hu e da ITL Group. Arrivederci.